Proveremo a cercare i giocatori che sono assenti per problemi di infortunio, mancanza per problemi lavorativi, non lo so bene. Cerchiamo di fare la nostra partita per prendere i tre punti per una maggior tranquillità, ma sicuramente non vogliamo fare brutta figura. Ci proveremo partita per partita per mantenere un ottimo risultato e cercare di arrivare fino alla fine.